Musica Buonasera e ben ritrovati a tutti coloro che sono sintonizzati su Teleponte, una nuova puntata di Diciamola Tutta, la seconda puntata in cui andiamo a scoprire chi sono i candidati a rettore dell'Università degli Studi di Teramo, si voterà il 5 giugno come abbiamo ricordato, poi la presa in carica del rettorato avverrà nel mese di novembre, sono due i competitors, il primo l'abbiamo conosciuto la settimana scorsa, era il professor Dino Mastrocolla, oggi abbiamo con noi il professor Stelio Mangiameli, ordinario di giurisprudenza. Buonasera professore, io partirei subito con una domanda, chi è Stelio Mangiameli? Sono essenzialmente un ricercatore, una persona che si è dedicata a questo lavoro pur potendo fare altro solo per amore della ricerca. La mia carriera, il mio curriculum è tutto sommato abbastanza semplice, mi formo nell'Università di Catania, dove muovo i primi passi nella ricerca e poi nell'83 riesco con una serie di borse di studio del CNR e poi con la prestigiosa borse di studio della fondazione Alexander von Humboldt a passare quasi un decennio a fare ricerca nella Germania federale e in modo particolare nell'Università di Freiburg in Brisgovia, che è una delle università più importanti della Germania, era l'Università di Heidegger e di Ursel, tanto per intenderci, e in quella università ho lavorato appunto per circa un decennio. Sono stato ricercatore anche al Max Planck di Heidelberg, ho avuto una borsa di studio nell'Harvard Law School degli Stati Uniti, un'altra borsa di studio mi è stata conferita per il Dipartimento di Public Law dell'Università di Edimburgo, ho insegnato poi nell'Università di Erfurt in Germania per due anni, ho insegnato in Spagna, insegno ancora adesso quasi regolarmente in diverse università del Sud America, frequento diverse università e college negli Stati Uniti, dove vado sia per ricerca sia per tenere cicli di conferenze. Nel 2010 è arrivata anche una cosa inaspettata, che non era preventivata, la direzione di un istituto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è l'Istituto di Studi sulle Regioni e fa parte di quello che è il mio background, studiare federalismo, regionalismo, Stato decentrato, Unione Europea, e quindi da otto anni dirigo questo istituto con un buon successo, siamo molto importanti nel panorama nazionale, nell'ipotesi di riforme costituzionali o amministrative, siamo importanti nei collegamenti con università straniere, facciamo parte del circuito dei centri di studi sul federalismo, che è un circuito internazionale, e ritengo che il mio apporto come ricercatore sia validato dal fatto che le mie pubblicazioni sono in diverse lingue, sono numerose, sono indicizzate dai diversi sistemi europei e internazionali, ho collaborazione un pochettino con riviste americane come con riviste anche europee, e questo è il mio credito nei confronti anche di questa scelta che i colleghi hanno cercato di sollecitare. E com'è nata? Da questa vita, prettamente da ricercatore, di una vita scientifica, passare a pensare a diventare un manager di università? Allora, premetto che accanto a questi meriti scientifici che credo siano indiscutibili e sono tutti documentati, c'è anche il fatto che proprio nell'università di Teramo, dove io arrivai nel 1995, dopo il primo anno ho ricoperto anche una serie di cariche di ordine accademico e universitario. Fui il primo a portare qui il corso in scienza dell'amministrazione, il corso di laurea in scienza dell'amministrazione, di cui sono stato presidente. Ho istituito io la scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, ho coordinato un dottorato di ricerca qui a Teramo, sono stato pro-rettore con la delega all'edilizia, con l'eparco, nonostante oggi sia tutti ne parlano, con l'eparco è il frutto della mia attività, non come ricercatore ma come manager all'epoca, come pro-rettore. Sono stato membro del consiglio di amministrazione dell'università di Teramo e presidente del nucleo di valutazione. Quindi diciamo che la ricerca è il mio animo prevalente, la mia passione prevalente, ma so benissimo che la ricerca si può fare solo in un sistema ben organizzato, che funziona ad alto livello. Se la struttura non è adeguata, non è possibile fare ricerca. Molti di noi sono andati all'estero all'epoca per andare a cercare i centri di ricerca meglio organizzati in Europa e nel mondo. Per questo poi hanno potuto conseguire risultati ancora più alti di quelli che avrebbero avuto in Italia. Questa è una storia antica. Noi abbiamo una marea di nostri studiosi che è andato all'estero, ha avuto successo e poi è ritornato, a volte non è ritornato. Adesso, attualmente, i nostri giovani vanno e purtroppo non ritornano, perché le strutture nostre sono alquanto obsolete, non meno organizzate, non stanno funzionando bene. È colpa anche di una politica generale dei diversi governi che si sono succeduti, che hanno tolto la possibilità all'università di poter funzionare in modo adeguato. E questo è veramente esecrabile per un paese che dovrebbe essere competitivo a livello europeo con la Germania, la Francia, che hanno strutture universitarie che negli anni della crisi sono stati potenziati. Nel 2010 la Germania fece una manovra di 100 miliardi a budget federale, no? Di 100 miliardi. Ebbene, il 7% in più è stato destinato alla ricerca, nel bilancio del 2010, che era l'anno della crisi. Noi abbiamo ogni ministro una riforma diversa, per cui è complicato. No, ma abbiamo ogni ministro il taglio dei fondi per l'università. L'è mancata dei commenti. Lei sa che c'è una... non so se conosce Europa 2020, è questo target importante, dove sono indicati una serie di obiettivi che devono essere raggiunti dagli Stati membri dell'Unione Europea. E per ogni Stato membro e per ogni settore c'è un certo tipo di target. Noi, diversamente dagli altri paesi, i nostri competitor, come la Germania e la Francia, non abbiamo il 3% del PIL, del settore della ricerca, ma abbiamo l'1,5. In questi anni i governi si sono vantati di avere rispettato l'obiettivo di Europa 2020. Perché siccome il PIL si riduceva e si riducevano le risorse per l'università e la ricerca, noi stavamo sempre bene. Mi sembra un tantino provare troppo questa circostanza. Cioè il paese va male, riduciamo la ricerca. La Germania è un paese che andava così e così nel 2010, soluzione, potenziamo la ricerca. Internazionalizzazione e ricerca è proprio un capitolo del suo programma elettorale. Per quanto riguarda il polo scientifico, soprattutto la facoltà di veterinaria, abbiamo in questo momento forti apprezzamenti anche da parte dell'Europa. Per quanto riguarda il polo, chiamiamolo umanistico, giurisprudenza scienze politiche, la ricerca fa fatica a termo ad andare avanti o è una buona università anche a livello di ricerca? No. Allora, secondo la valutazione dell'Ambur, della ultima UQR, che sarebbe la valutazione svolta periodicamente, la prima facoltà per indice di ricerca è la facoltà di giurisprudenza. Questo deve essere chiaro. È la prima, non è la terza. L'hanno pubblicizzato poco. L'hanno pubblicizzato poco e questo è un limite dei colleghi di giurisprudenza. Giurisprudenza ha il più atto indice per la ricerca. Vi sono molti colleghi di giurisprudenza che nelle pubblicazioni che sono state valutate hanno raggiunto il grado di eccellenza in entrambe le pubblicazioni. molti l'hanno avuto in uno e in uno no, ma la maggior parte ha avuto questo. Ed è la prima nella Deneo Terramano. Quindi la ricerca è di ottimo livello. Ma non è sufficiente questa ricerca che sinora abbiamo fatto per metterci all'avanguardia e dal punto di vista nazionale e dal punto di vista della competizione europea. Questo deve essere chiaro. La ricerca deve essere ulteriormente potenziata, soprattutto con alcuni accorgimenti. E uno di questi accorgimenti è proprio l'internazionalizzazione. Se io internazionalizzo l'Ateneo, ottengo una valutazione della ricerca più alta, perché fa parte dell'internazionalizzazione il portare a conoscenza della ricerca che si fa a Terramo il resto del mondo. È quella che tecnicamente si chiama dissemination della ricerca. Ora, da questo punto di vista, l'Università di Terramo non fa nessuna dissemination della sua ricerca. E quindi è chiaro che anche se è di qualità, addirittura lei dice che nessuno sapeva che giurisprudenza era la prima per valutazione VQR, se non si fa nemmeno questo sul mercato interno, figuracci sul mercato internazionale. Allora io ritengo che qui bisognerebbe puntare a una prospettiva di internazionalizzazione che ci consente di metterci in contatto con i centri di maggiore ricerca, che ci consente di portare a conoscenza l'Europa e il resto del mondo della ricerca che noi siamo in grado di fare e che ci consente anche di crescere come valutazione nazionale, da questo punto di vista. Gli strumenti sono molto semplici da questo punto di vista. Non è che c'è bisogno di inventare gran chiesa. Il problema di fondo è innanzitutto mettere a disposizione degli studenti per farli internazionalizzare corsi linguistici adeguati, perché non possono andare all'estero senza conoscere l'inglese. Qui abbiamo il vantaggio che possono prendere certificazioni gratuite al centro linguistico d'Ateneo. Sì, ma molti studenti mi hanno detto che in realtà a fronte di questa facilità con cui si può conseguire la certificazione, in realtà l'insegnamento della lingua inglese non è particolarmente significativa, per cui hanno difficoltà. Poi la seconda cosa importante è mettere a disposizione delle borse di studio adeguato. Negli ultimi anni le borse di studio si sono ridotte progressivamente, il che ha comportato che molti studenti hanno preso l'Erasmus, ma vi hanno rinunciato, perché con 200 euro al mese non si può vivere in un paese straniero europeo. Quindi la prima cosa è che bisogna aumentare le borse di studio. L'altro profilo che io ritengo importante sono i dottorati, che si possono fare a livello europeo e a livello internazionale ormai, con tutta una normativa che è prevista dall'Unione europea e che prevede anche dei dottorati extra UE. Allora questo è importante, cioè aumentare le borse di studio di dottorato e collegarci con altri centri di ricerca, in modo da avere la possibilità non solo di mandare i nostri dottorandi in questi centri, ma anche di ricevere da questi centri dottorandi che vengono qui. Il terzo elemento importante secondo me per una corretta internazionalizzazione è quello dell'istituire delle riviste online in lingua inglese. Questo lo fanno molto bene le università olandesi. Non costa granché perché lei lo sa lo spazio virtuale è infinito, quindi non ci sono problemi. Quindi che so fare Unite Law Review, Unite Political Science Review e via dicendo, ma anche per il polo scientifico questo vale. E pubblicare in lingua inglese su queste riviste online contributi scientifici che abbiano superato la peer review, che possono essere anche pubblicati in italiano su altre riviste di fascia A o in altri posti, è rilevante. Ma pubblicarli lì, questo crea un effetto di dissemination in Europa e nel mondo importantissimo, che corrisponde peraltro anche a una parte della terza missione dell'università. E questo sarebbe un grado di internazionalizzazione importante, per esempio io le posso dire che da quando pubblico in inglese, e questo accade ormai da circa 10 anni, ho un'indicizzazione all'estero che a volte è superiore a quella italiana, sui vari panel che sono… i miei colleghi hanno un'ottima ricerca valutata positivamente, però non riescono a fare neanche la dissemination dentro Teramo, allora bisogna aiutarli per fare questo tipo. L'ultima cosa che ritengo importante è quello dello scambio dei docenti, docenti di altre università stranieri che vengono a insegnare qui e docenti italiani di Teramo che vanno a insegnare in queste università. Ovviamente anche qui occorre che i nostri colleghi, l'unico modo per poter fare questo scambio, e che i colleghi conoscano bene l'inglese, siano in condizione di tenere un corso in inglese, e che i colleghi che vengono qua tengono il corso in inglese, quindi gli studenti siano in grado di seguire il corso in inglese. Ecco, questo è, diciamo così, si tratta di piccoli accorgimenti, ma potrebbe avere un effetto dirompente dal punto di vista dell'immagine dell'Università di Teramo. Da come ha parlato, lei già vede gli studenti un livello, un gradino superiore rispetto a quello che forse è oggi la massa studentesca universitaria, che già la conoscenza dell'inglese rischia di mettere a terra gran parte degli iscritti che purtroppo non hanno capito che la lingua ormai, la seconda lingua oltre all'italiana è diventata un elemento guida del loro percorso di studi. Abbiamo parlato di studenti, parliamo di studenti, e fondamentalmente sono la vita dell'università, non ci sarebbero i docenti se non ci fossero gli iscritti. Lei è a Teramo da tanti anni, ha vissuto quindi un percorso dove si vedeva a Teramo a rischio soggezione da parte delle altre università abruzzesi, una crescita di iscrizioni che c'è stata negli ultimi anni, ma il tetto dei 10.000 a cui anche lei aspira ancora è ben lontano. Io sono stato il primo a lanciare il tetto dei 10.000, per quanto riguarda come target dell'Ateneo, insieme a quello dei 400 docenti e 400 personale TAB. secondo me noi abbiamo bisogno di dire agli studenti abruzzesi in primo luogo, per esempio ci sono 17.500 studenti abruzzesi che non studiano in nessuna delle università d'Abruzzo, né a Teramo, né a Pescara, a Chieti o all'Aquila, che quindi vanno fuori dalla regione per studiare. A noi basterebbe trattenerne 500 ogni anno, di questi 17.500 che vanno via, per riuscire ad avere un cambiamento radicale della situazione teramana. Forse anche meno, ma quello che lo studente, soprattutto quello che va via, sa perfettamente che oggi il mercato non è il mercato regionale o il mercato locale, ma è questo più il mercato globale. E nel mercato globale lo studente è competitivo solo se riesce ad avere sapere e gli strumenti, i tools adeguati per poter far valere il proprio sapere. Ora, fra i tools è in dubbio che ci sia quello linguistico, è in dubbio che ci sia quello linguistico. E lo sforzo che è stato fatto, io sono anche un docente jamonné, non so se è chiara questa definizione, sono uno di quei docenti che la Commissione Europea ha valutato e a cui ha affidato o moduli o cattedre jamonné. Io ho avuto qui a Teramo, anche negli anni in cui non ci sono stato cosiddetto, un modulo jamonné sui temi della cittadinanza europea. E tra le altre cose, adesso il programma Erasmus all'interno della Commissione è coniugato proprio col tema della cittadinanza europea. E quindi l'importanza di questo connubio, cittadinanza europea, programma Erasmus, significa che l'Erasmus non serve a preparare degli ottimi studenti italiani, francesi o tedeschi, ma degli ottimi studenti europei. Allora, se entriamo in quest'ottica e se lo studente gli facciamo vedere che lui può studiare a Teramo, ma poi può andare dove vuole nel mondo, è chiaro che lo studente sarà portato a partecipare attivamente anche al percorso linguistico che va revisionato però, ecco questo è chiaro, va revisionato. Io ritengo che da questo punto di vista, anche, non credo che ci siano persone in grado di fare rivoluzioni o cambiamenti epocali tutti in un giorno. Io credo nella cultura della riforma e dei piccoli passi, piccole riforme e piccoli passi. Ecco, tutte queste cose in realtà non richiedono cambiamenti epocali, richiedono una visione strategica coerente delle risorse che già abbiamo, gestendo queste risorse in modo diverso. Questo è quello che io penso. Sempre a proposito di studenti, la figura del rettore rispetto a fine anni 80, anni 90, oggi è cambiata, nel senso che il rettore deve essere una persona capace di dialogare, tra virgolette, politicamente con la città per creare un'interconnettività e un tessuto in maniera che gli studenti, al di là dell'università, abbiano un contesto cittadino, anche chi viene da fuori, dove poter vivere e poter trovare un qualcosa che al momento oggi Teramo non offre. Non solo oggi, le ho detto che io sono arrivato qua nel 1995. Però a quei tempi i rettori si occupavano di meno dell'aspetto della città. Ma Teramo non è stata mai, non si può considerare una vera e propria città universitaria, diversamente da Urbino, da Macerata, dalla stessa Camerino. Perché sembra quasi che l'università per Teramo sia stata un di più. Non dico che la città l'abbia respinta, ma certamente non l'ha agevolata. Questo è un dato di fatto. Guardi, il problema del trasporto pubblico cittadino e il collegamento fra il centro e Colleparco è un problema che esiste da 30 anni. Non esiste da oggi. Da quando abbiamo fatto Colleparco? Colleparco è stato fatto nel 1998. Ma già prima ci eravamo posti il problema e non è stato risolto né prima, né durante, né dopo. Questo è un problema che deve essere risolto e non è così difficile. Io propongo, come lei avrà visto, anche car sharing, le biciclette elettriche, tutte queste cose che consentirebbero di avere collegamenti sia su Piano Daccio che su Colleparco adeguati per i bisogni degli studenti. Tanto più se vanno avanti gli investimenti del Masterplan sul centro della città. Ma quello che è certo è che noi dobbiamo aprire un dialogo con chi governerà la città, con chi governerà la provincia, con chi governerà la regione prossimamente. Che non può essere quello dell'asservimento ai bisogni della politica dell'università. L'università è un bene del territorio. L'università è un bene che serve alle istituzioni del territorio. Non può essere un connubio tra un rettore e un politico a determinare quello che deve fare l'università. Questo ci tengo a dirlo perché l'indipendenza è fondamentale dell'università rispetto alla politica. Si vede in posizione svantaggiata rispetto al suo competitor, visti i rapporti che ci sono stati tra Luciano D'Alfonso e Luciano D'Amico e di conseguenza a ricasco anche verso Mastrocola? Guardi, io non so se hanno avuto rapporti positivi, negativi o come li hanno avuti questi rapporti. Abbiamo visto in tantissime occasioni D'Alfonso a fianco al rettore e D'Amico sponsorizzandole. Lo stesso Masterplan sembra una cosa nata da D'Alfonso e D'Amico più che da un contesto. D'Alfonso è nato per la regione Abruzzo, usa i fondi strutturali, ha una consistenza di circa 6 miliardi e quelli che vengono destinati all'università di Teramo sono 88 milioni. Quindi che sia nato dal loro connubio, non lo so se hanno interessi, se D'Amico faceva la parte del rettore ha ottenuto questo a fronte di 6 miliardi che sono stati distribuiti fra le quattro province. Quindi questo per essere chiaro. Ma a me non interessa quello che è stato sinora, anche perché D'Alfonso è diventato senatore e va al Parlamento nazionale. La regione è stata di fatto lasciata un anno prima dalla scadenza naturale. La situazione del comune di Teramo è quella che lei sa benissimo. Si va a votare il 10 giugno, dopo un periodo di commissariamento perché la precedente legislatura è entrata in crisi, il sindaco non ha retto, non ha riorganizzato una maggioranza e quindi dal punto di vista istituzionale, questa è una cosa che io dico nel mio programma, ci troviamo di fronte a una crisi della politica abruzzese che non fa bene a nessuno. Non è che non fa bene all'università, non fa bene al territorio innanzitutto, non fa bene alle istituzioni che devono erogare servizi a favore della cittadinanza e non fa bene all'università ovviamente, che non può essere l'interlocutore di questo o quel politico, ma deve essere l'interlocutore delle istituzioni. Se le istituzioni non ci sono, come è in questo momento, all'università manca un interlocutore. Io sono pronto, nel momento in cui ci saranno le istituzioni funzionanti, a essere l'interlocutore di tutte le istituzioni. È il mio dovere specifico fare questo e avere una visione anche politica, di strategia politica dell'Ateneo rispetto alle istituzioni. Ma questo non dovrà mai significare parteggiare per uno piuttosto che per un altro uomo politico del territorio. Questo deve essere chiaro. Io sono sempre stato un uomo indipendente. In questa veste ho lavorato con tutte le istituzioni. istituzioni. Forse lei non lo sa, ma io ho scritto lo statuto della regione Abruzzo. Ho scritto la legge elettorale e la legge sull'incompatibilità e l'inegibilità della regione Abruzzo. Queste leggi io le ho scritte come consulente del Consiglio, di maggioranza e di opposizione. All'epoca il giovane D'Alfonso era consigliere regionale di opposizione, della Margherita. Me lo ricordo come un giovane di belle speranze. e quindi in modo imparziale ne comprendo tutte. E quando vengo chiamato dal Senato, dalla Camera, dalle varie commissioni per essere audito sui vari temi istituzionali, ci vado forte della mia competenza tecnico-scientifica e della mia indipendenza. Tutti sanno che io ho questo forte carattere indipendente e che ovviamente poi, dipende dalla politica, apprezzare le soluzioni che io posso fornire nell'interesse delle istituzioni. Abbiamo accennato al masterplan. Il problema dell'edilizia universitaria a Teramo è un problema grande perché abbiamo con l'eparco, con tutte le difficoltà che ha questa sede, abbiamo la sede di Piano D'Accio che dovrebbe essere raddoppiata grazie al masterplan, ma con una collaborazione e con una sorta di intreccio con l'istituto zooprofilattico. Abbiamo la sede di Viale Crucioli che dovrebbe diventare una nuova casa dello studente. No, una nuova, perché non c'è una vecchia. Abbiamo una vecchia mai finita. Ecco, stiamo arrivando. Questo è un altro punto dolente che io dal 1995 vado dicendo continuamente, che non è accettabile e nessuno si è impegnato per risolvere questo problema. E abbiamo una vecchia casa... Dubito che adesso le cose miglioreranno facilmente. Abbiamo una casa dello studente mai conclusa che deve essere comunque riadeguata e destinata a nuovi servizi. A livello edilizio il suo programma cosa prevede? Ma anche qua io non sono uno che vuole sconvolgere le cose, anche perché sono state avviate iniziative adeguate, secondo me. Quando si parla di completare con i laboratori che erano quelli dell'ex Molinari, perché io conosco bene la storia precedente di tutte le facoltà e di tutti i vari problemi, i laboratori erano all'ex Molinari, che è un istituto che era qui vicino, dove io peraltro in un'aula facevo lezioni... Dove prima ancora c'era la scuola media. Sì, esatto. E lì poi un'aula abbiamo avuta noi come giurisprudenza per fare lezioni. Poi dopo c'è andata medicina veterinaria che ha messo in laboratori. Insomma, è una situazione sempre difficile per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico ed edilizio dell'università. Ecco, poi è chiaro che a Piano Daccio adesso c'è una realtà importante che è l'ospedale veterinario. È chiaro che lì vicino vanno costruiti i laboratori, anche se, diciamo così, abbiamo perso un po' di tempo e quindi il territorio intorno è stato occupato con edilizia residenziale, che non agevola la nostra attività edilizia. Ma lì andranno fatti i laboratori, verranno fatte le aule e dovrebbe essere completato questa. E sinergie sono possibili con tutti, anche con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, no? Però l'Istituto non è l'università, è un'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Dipende non dalle stesse autorità dell'Ateneo. E quindi, in questo momento, come le esace, il professor Mattioli, che può essere un catalizzatore di sinergie, tutto quello che vogliamo, ma non è detto che rimarrà sempre lui. Allora, se il rapporto è paritetico e avviene sulla base di convenzioni chiare, si può fare tranquillamente anche una forma di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico. Ma a noi deve interessare soprattutto l'università, deve interessare la Facoltà di Medicina Veterinaria, deve interessare il completamento della parte relativa alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Piano d'Accio. Questo è il nostro interesse. e in base agli atti di cui ho avuto notizia e alla disponibilità dei fondi e al cronoprogramma, nel giro massimo di tre anni questo polo dovrebbe essere completato. Mentre il discorso dell'ex manicomio e di tutto quello che si vorrebbe mettere dentro l'ex manicomio è più complesso perché quella è una struttura molto più delicata, molto più fragile e un bene culturale. Legata appunto ai beni culturali. Esattamente. Quindi lei sa che là quando spostiamo un muro o apriamo un pavimento non sappiamo nemmeno quello che troviamo. Ci sono accordi particolari con la sovrintendenza che devono garantire lo svolgimento dei lavori. Io ritengo che i soldi stanziati per medicina veterinaria più o meno possono essere sufficienti col master plan. Invece per quanto riguarda l'ex manicomio io credo, ho la sensazione per il tipo di restauro che bisognerà fare che non è uno... Lei sa che i restauri degli edifici questo glielo dico per la mia esperienza di prorettore all'edilizia anche, no? Ecco, i restauri di edifici storici si differenziano in leggeri, medi e pesanti. Quello dell'ex manicomio è pesante. E' pesantissimo. E quindi, complessivamente, coperto e non coperto sono 34.200 metri quadrati. Se lei considera che un pesante leggero va su 2.000 a metro quadro immediatamente i conti se li fa che solo dal punto di vista di edilizio non abbiamo le somme sufficienti. Da prorettore all'edilizia lei parlò con Lazio a suo tempo per questa casa dello studente fantasma di Villalbola. No, non avevo la responsabilità dei rapporti con Lazio che rientrano nella categoria del diritto allo studio dei servizi agli studenti non dell'edilizia. Io come prorettore all'edilizia mi sono occupato inizialmente anche dell'ospedale di medicina veterinaria poi disse al rettore dell'epoca che tutto non si può fare nella vita bisogna scegliere. Allora, avviato un certo discorso sull'ospedale io poi mi sono occupato a tempo pieno di Colle Parco portando il primo edificio quello che era di giurisprudenza dove oggi ci sono anche altre facoltà a complimento completo e praticamente ho fatto la gara del secondo edificio con la facoltà di scienze politiche dove c'è ora anche il rettorato di scienze della comunicazione e anche l'avvio dei lavori con tutto ciò che comportava questo fatto. E devo dire la verità meno male che abbiamo fatto quell'investimento all'epoca se no oggi non avremmo avuto neanche un'università. Niente, non avremmo avuto niente invece tra l'ospedale di medicina veterinaria e Colle Parco bene o male abbiamo resistito a questa situazione molto particolare. però io in tutte le occasioni mi sono lamentato del fatto che Teramo non avesse la casa dello studente. Vede, gli studenti oggi e questo io l'ho costato quotidianamente dovunque vado sia in Italia che all'estero gli studenti oggi ci chiedono una cosa diversa rispetto a quello che ci chiedevano negli anni 90. Negli anni 90 gli studenti ci chiedevano di superare l'esame di essere promossi di concludere il percorso degli esami di darsi la tesi in un modo o nell'altro e di laurearsi. Oggi gli studenti non ci chiedono più questo non perché non vogliono fare gli esami e non vogliono superare gli esami attenzione ma perché ci chiedono la formazione ci chiedono una formazione autentica se noi abbassiamo il livello della didattica Ma non sembrano più semplici gli esami oggi rispetto a 20 anni? Ma questo non è un fatto positivo di per sé noi corriamo il rischio di avere un flusso emigratorio di alcune facoltà dell'università di Teramo verso altre università perché molti studenti cominciano a lamentarsi che non apprendono abbastanza non è semplificando e promuovendo tutti che si risolve il problema assolutamente è vero tutti questi indicatori lo studente in regola con gli esami con quell'altro ma noi dobbiamo convincere gli studenti che lo studio per loro è la più grande opportunità della loro vita perché se non fanno le veline le ragazze se non fanno i tronisti i ragazzi se non hanno le terre al sole l'unica cosa che possono fare per migliorare la loro condizione esistenziale ed economica è quella di studiare è bene quindi il patto dello studente lo rivedrebbe dentro certi termini certo perché bisogna puntare su una didattica più qualificata su percorsi formativi più solidi ma non imponendo chissà quali programmi massacranti agli studenti o cose succede ma lavorando con loro in un modo diverso oggi ci sono metodi didattici in cui lo studente dell'insegnante di se stesso se noi non riusciamo a spiegare questi metodi agli studenti e a utilizzare queste tecniche in cui loro formano se stessi sono loro i responsabili del loro percorso i professori universitari non possono essere responsabili del percorso di ogni singolo studente e allora se noi li prepariamo dal punto di vista metodologico a una didattica responsabile e ovviamente dobbiamo avere dei docenti che abbiano qualcosa da dire che abbiano una ricerca di qualità no? perché anche qua se c'è un abbassamento guardi che non è che è colpa degli studenti è colpa dell'abbassamento dei professori universitari questo deve essere detto con chiarezza non tutti studiano come dovrebbero studiare mi sono spiegato ci sono molti colleghi che hanno difficoltà a raggiungere le mediane ANVUR per fare parte delle commissioni delle abilitazioni scientifiche nazionali e noi non possiamo correre il rischio di avere persone che sono escluse dalla comunità scientifica di riferimento e che poi decidono il destino degli studenti dell'Ateneo e via dicendo scusi se io come costituzionalista non avessi le mediane sarei fuori dalla comunità dei costituzionalisti non avrei interlocuzione con nessuno dei miei colleghi in realtà così come non avrei interlocuzione con le istituzioni che hanno bisogno del costituzionalista evidentemente in queste condizioni io che cosa dovrei insegnare niente perché io posso insegnare devo avere un livello scientifico devo mantenere un livello scientifico alto e devo essere in condizione di trasmettere il sapere agli studenti e gli studenti devono essere preparati con strumenti didattici pronti a ricevere quello che io gli do quindi la domanda che oggi si incontra è una domanda che è più qualificata in realtà anche perché che noi lavoriamo uno nei termini regalando gli esami e la laurea e poi questo finisce in un call center che dopo alcuni anni entra in crisi cosa abbiamo prodotto noi? niente è il fallimento della nostra università mi sono spiegato sicuramente oggi poi peraltro i percorsi di formazione si sono allungati non sono più quelli dei cinque anni classici della laurea ma c'è un post laurea che è estremamente importante per la formazione professionale di cui l'università si deve fare carico che può essere la scuola di specializzazione può essere il dottorato e oltre a questi due elementi importanti per gli studenti dottorato scuole di specializzazione e via dicendo dobbiamo fare in modo che l'università intercetti il mercato del lavoro se noi vogliamo bene i nostri studenti cioè noi dobbiamo avere la possibilità che prima ancora che istruiamo un percorso formativo sappiamo che quel percorso formativo è utile a un certo settore dell'economia della società del paese le faccio un esempio concreto io sono stato appunto tra gennaio fine gennaio inizio di febbraio con una short time mobility negli Stati Uniti in un college di New York dove avevo appuntamento con colleghi abbiamo parlato di una serie di problemi in modo particolare la ricerca era sulla corruzione e sulla valutazione delle politiche pubbliche nel sistema americano i confronti con quell'italiano eccetera e via dicendo a un certo punto un collega dice senti mi fa piacere se questa sera viene a cena a casa mia con tua moglie eccetera abbiamo parlato c'è una figlia c'è una figlia c'è tua figlia che fa e dice sai stai in una piccola università del Delaware e di che cosa si occupa il Delaware è il più piccolo Stato degli Stati Uniti no? si occupa di acque ha detto allora è una biologa no no si occupa di gestione delle acque e che fa è un corso che lei sa già dove deve andare a lavorare quando finirà il corso questo è importante è importantissimo sicuramente perché bisogna conoscere il territorio dove operiamo io propongo nel mio programma un corso di laurea in forestazione guardi io ho studiato a Friburgo dove c'è la foresta nera e le ho detto che era l'università di Heidegger però per studiare forestazione a Friburgo venivano da tutto il mondo dall'India dall'Australia da tutte le parti perché era una delle facoltà più importanti noi abbiamo una regione verde piena di parchi non abbiamo un corso di forestazione in tutta la regione nelle tre università io trovo che qui c'è un mismatch tra il bisogno territoriale e la formazione per cui bisognerebbe correre ai ripari da questo punto di vista perché tanti studenti facendo un corso del genere potrebbero trovare immediata collocazione qui e in altre parti del territorio italiano apportando magari anche qualcosa di innovativo rispetto a quello che esiste adesso sul territorio a livello poi operativo certo chiaro un pregio che ha avuto il rettore ed amico a mio avviso rispetto a Luciano Russi è stato quello di riaccorpare e riportare in città tutte quante le facoltà universitarie contro una politica degli anni passati che invece aveva un pochino diviso l'università in Millerivoli Atri Mosciano eccetera rimane una facoltà di giurisprudenza ad Avezzano con un grosso punto interativo sul suo futuro se diventasse rettore la rivaluterebbe allora io sono stato ad Avezzano io ho insegnato ad Avezzano pur mai rinunciando al mio corso nella sede principale della facoltà di giurisprudenza io sono stato sempre titolare qui e ho avuto qualche supplenza ad Avezzano devo dire con estrema sincerità che la situazione di Avezzano non è soddisfacente in queste condizioni secondo me non si può più proseguire o si trova una chiave di volta non solo con il comune di Avezzano che peraltro anche esso vive in crisi trana tra zoppa e pescati non siamo di fronte a un esempio politico positivo neanche in questo caso ecco nel caso di Avezzano non può dipendere la scelta di collocare lì un raggruppamento universitario solo dal comune ci deve essere un discorso più ampio e soprattutto ci deve essere una logistica completamente diversa da quella che c'è attualmente se questo non può essere garantito siccome l'università si distingue anche per un certo decoro che è il decoro universitario ecco non possiamo accettare delle soluzioni che sono sotto il decoro le dico però a livello politico ricordiamo ai tre spettatori Avezzano era stata presa come sede universitaria anche per arginare un flusso di quella parte dell'Abruzzo verso Roma bravo era questo il discorso non solo c'era questo ma c'è anche un bacino si potrebbe creare un bacino universitario molto importante perché se voi guardate puntate su Avezzano e guardate esattamente cosa ha intorno Avezzano con un giusto attività di informazione nei licei eccetera eccetera di orientamento potrebbe avere un bacino autonomo rispetto ai bacini delle università abruzzese che potrebbe dare un grosso contributo all'Abruzzo e all'Università di Teramo ma per fare questo occorre che noi dobbiamo disporre di un'infrastruttura adeguata mi sono spiegato ecco quindi tutto il problema qui un rettore deve avere capacità politica di interlocuzione con le istituzioni che possono mettere l'università in condizione di operare bene innanzitutto con la provincia che è titolare delle scuole medie secondarie noi non possiamo avere quattro stanze di un liceo classico molto bello ma vuoto perché ci sono ormai due sezioni vuoto e non possiamo avere neanche una stanza in più questa è la prima cosa poi c'è tutto il discorso con la regione che riguarda Villa Torlonia e il parco quella sarebbe una soluzione nobile addirittura per l'università allora se si fa questo ragionamento con una bella collaborazione le sai che uno dei punti a cui io sottolineo nel mio programma è la collaborazione interna tra le facoltà dell'Ateneo e una collaborazione regionale con le altre sedi universitarie allora se si mettono in piedi percorsi virtuosi di collaborazione il bacino di Avezzano può tornare utile anche alla regione e all'Università di Tenamo quando parla di collaborazione interna tra le facoltà dell'Ateneo è un argomento difficile visto che comunque invidia gelosia rivalità anche se tutti quanti tendono a metterle sotto il tappeto esistono certo che esistono non staremmo qui a parlarne altrimenti e so benissimo di che cosa ci possiamo riferire entrambi però lì è l'autorevolezza di chi dirige l'università perché se io non faccio parte di nessuna conventicola come non faccio parte di nessuna conventicola io ho l'autorevolezza per dire a tutti che dobbiamo superare determinati atteggiamenti e il mio non è un programma per questo o quella facoltà per questo o per quel gruppo è un programma per tutto l'Ateneo per tutte le facoltà dell'Ateneo io dico di mettere in linea le facoltà quelle del del settore delle scienze sociali che possono produrre più offerta formativa già da sole e poi queste con le facoltà scientifiche attraverso una sana contaminazione che consentirebbe di ulteriormente qualificare l'offerta formativa di vita lei sa benissimo che io tra le parole che uso come parole chiave c'è l'ambiente certo e l'ambiente è una parola chiave insieme a quella di sicurezza e di management l'ambiente è una parola chiave perché oggi come oggi non c'è disciplina che non si misuri con l'ambiente l'ambiente è una materia trasversale che è a comune a tutte le politiche pubbliche non c'è una politica che non abbia risvolta ambientale il concetto stesso di sviluppo sostenibile fa riferimento all'ambiente fa riferimento però a una serie di valori anche culturali sostenibile è quello sviluppo che usa le risorse senza pregiudicarne l'uso che ne dovranno fare le generazioni future questo è lo sviluppo sostenibile allora concetti di questo genere che in questo momento sono diciamo così elaborati a livelli internazionali cioè la carta ONU sullo sviluppo sostenibile 2030 dove ci sono i 17 indicatori dello sviluppo sostenibile ecco questo tipo di diciamo così di documenti internazionali ormai diventano regolativi anche delle attività all'interno degli stati e diventano regolativi anche degli studi che dobbiamo portare avanti quindi l'ambiente è una parola che è una chiave di volta per tutti per tutte e cinque le facoltà e lo stesso dicasi per la sicurezza quando noi parliamo della sicurezza sicurezza va dalla sicurezza alimentare alla sicurezza ambientale si ritorna inquinamento rifiuti acqua eccetera eccetera via dicendo alla sicurezza dei dati alla sicurezza dello Stato alla sicurezza dei processi produttivi cioè la sicurezza è insieme all'ambiente il più grosso tema che l'umanità sta affrontando pensiamo al discorso delle migrazioni e della sicurezza no? che quindi la sicurezza dove risiede? nel respingere i migranti e alzare il muro di confine o nell'integrare il migrante all'interno del paese con politiche pubbliche da cui il paese può beneficiare un paese come l'Italia che ha una piramide della popolazione ormai sbilenca che non funziona più e che avrebbe bisogno di centinaia di migliaia di persone che vengono a lavorare qui no? allora queste sono le problematiche del futuro del paese incentrare una piccola università di carattere specialistico come l'Università di Teramo su tematiche così importanti che hanno un impatto diretto no? secondo me è fondamentale per avere un riscontro nel più breve tempo possibile nel territorio noi siamo una zona dove ci sono stati terremoti devastanti il tema della sicurezza vuole che non riguardi anche questo la normativa sulla sicurezza prevede che ci sia una edificazione antisismica occorre che ci sia nella città il piano regolatore antisismico che ci sia il piano di evacuazione il tema della protezione civile del calcolo dei rischi e tutto questo nel college in cui io sono andato negli Stati Uniti dove mi sono occupato di management da quel discorso c'era un altro dipartimento che si occupava proprio del tema della sicurezza e che è strutturato per formare funzionari della pubblica amministrazione che vanno a fare questo all'interno della pubblica amministrazione secondo lei il personale TAB a questo punto di università ha bisogno di crescere ulteriormente ha bisogno di rapportarsi in maniera diversa deve avere delle prospettive di carriera che al momento sembra non avere o va bene così com'è? no il personale purtroppo è in uno stato di sofferenza questo l'ho constatato personalmente girando negli uffici non sempre le competenze sono rispettate ci sono una serie di problematiche che riguardano la loro condizione occorre la formazione occorre che abbiano infrastrutture per lavorare adeguate e occorre che ci sia quindi anche l'innovazione nei processi di lavoro della pubblica amministrazione dell'amministrazione cioè devono avere la possibilità di avere procedure chiare predeterminate in modo chiare in modo che ognuno sappia quello che deve fare è chiaro che il personale deve essere trattato in modo partecipativo il personale deve partecipare quando io faccio la riunione dei miei ricercatori per fare il piano di lavoro il personale dell'istituto partecipa e deve essere responsabilizzato sulle cose che noi facciamo ma cosa interessa a quello che si occupa del sito di sapere che noi vogliamo fare una ricerca sulle province o sulle città metropolitane interessa perché se lei si rende conto quando io gli porto un certo tipo di lavoro da fare lei è già al mente locale sul lavoro sulle province e sulle città metropolitane è chiaro che perciò il personale deve diventare parte essenziale del progetto cosa che attualmente si sente fuori non ha avuto non ci sono state buone relazioni sindacali e questo dato che ho anche un passato da sindacalista confesso che anch'io ho peccato non è un fatto assolutamente quando ero stato all'università di Catania però questo qua soprattutto da giovane ricercatore rispetto al sindacato non è un fatto positivo che non ci siano buone relazioni sindacali occorre che il sindacato che il personale abbia la progressione orizzontale e verticale cosa che non gli è stata riconosciuta in questi anni e siccome è contenuto il numero c'è un rapporto risorse personale risorse personale tab risorse complessive dell'ateneo che deve essere mantenuto e l'ateneo è abbastanza sotto io ritengo che nel prossimo futuro al personale dovrebbe essere riconosciuto anche qualche soddisfazione sul piano della progressione in carriera sia orizzontale che verticale a livello torniamo facciamo un passo indietro e torniamo all'offerta formativa nel suo programma è previsto anche un corso di laurea online una cosa che ha fatto un po' storcere il muso al suo competitor ma il mio competitor dovrebbe sapere che corsi di laurea online vi sono da per tutti ci sono ci sono anche a Pescara anche c'è una facoltà di giurisprudenza online a Pescara e io ritengo che noi dobbiamo avere una piattaforma e-learning che non può essere quella attuale deve essere potenziata migliorata completata responsabilizzata i docenti e via dicendo con la tecnica che è tipica dei collegi americani il syllabus i materiali l'accesso limitato con le credenziali dello studente insomma cose che abbastanza elementari che si possono fare in poco ma mettere anche a disposizione un corso di e-learning potrebbe agevolare la formazione per esempio degli studenti lavoratori per avere dei corsi a disposizione e avere una formazione che possa essere anche contenuta nel tempo visto che adesso viene visto con disfavore lo studente cosiddetto fuoricorso non da me non da perché anzi dovremmo avere dei percorsi temporalmente differenziati per chi come negli altri sistemi europei e americani per chi si dichiara sin dal primo momento studente lavoratore quindi è chiaro che un studente lavoratore non può prendere la laurea in 5 anni ma ne avrà bisogno di 7 di 8 allora se c'è questa dichiarazione all'inizio lo studente lavoratore non dovrebbe essere una penalizzazione dell'ateneo se visto che quello è già nel mercato del lavoro e vuole progredire come formazione ecco quindi il corso il corso online secondo me è importante è importante e serve non è una questione semplicemente tattica per evitare di avere le università online che ci rubano gli studenti no Pegaso Uni Nettuno queste cose così e via dicendo ma serve proprio perché può costituire un completamento del sistema formativo dell'ateneo è chiaro che poi il corso frontale è quello che dà di più agli studenti questo lo so anch'io perfettamente l'interazione che si crea nella classe quando lo studente è davanti a me io ero solito sempre dire una battuta quando ponevo una domanda agli studenti io sempre non vi preoccupate lanciatevi sono io il vostro padre caduto non cadrete per terra e questo consentiva loro anche di dire a volte delle cose inusitate come risposte ma io riuscivo poi a ricondurli dentro il giusto processo formativo anche quella cosa che sembrava sbagliata in questi giorni lei immagino stia girando in mezzo all'elettorato attivo sia a livello di docenti di cercatori che di personale che riscontro vede sulla sua persona in questi termini sulla persona direi che a livello elettorale non no perché insomma le persone mi conoscono la maggior parte delle persone mi conoscono anche di solito quando uno chiede il voto a livello politico comunale provinciale non universitario si dice sempre di sì a tutti io però prima di chiedere il voto non sto chiedendo il voto sto offrendo una visione strategica loro devono discutere su quella visione strategica c'è un programma mio c'è un programma di Mastrocola si sceglie essere il rettore in modo responsabile questa è la prima cosa che io dico ai miei colleghi e al personale questo è quello che io ho scritto perché ho studiato ho lavorato anche tutta la prima parte di analisi del territorio deriva da uno studio approfondito sono tutta una serie di indicatori che sono messi nella proposta ebbene dopo che siamo in democrazia chi vince ha ragione quindi si scegliessero loro il loro rettore sapendo che poi non possono prendersela con nessun altro quindi non è un problema di chiedere il voto è un problema di far conoscere il programma che io propongo se li convince io sono qua metto a disposizione questo segmento della mia vita che sono gli ultimi sei anni dell'attività accademica dell'Università di Teramo ma devono volerlo loro per i colleghi io devo essere un'opportunità non un problema da risolvere dicendo sì sì va bene poi magari si cambia opinione dopo due minuti loro devono vedermi come l'opportunità dell'Università è la loro opportunità per risolvere una serie di problemi io non sono il problema sono la soluzione del problema questo deve essere importante per quanto riguarda quindi chiedere il voto dentro l'Università non è come chiederlo per la politica soprattutto non mi appartiene il chiedere il voto per il voto perché io non devo concentrare potere su di me per chissà quale progetto io non ho secondi fini alla mia età con la mia esperienza con quello che io ho fatto nella mia vita di ricercatore e anche di manager tuttora sono un manager sono direttore di un istituto di ricerca quindi sono un manager della ricerca questa è una sfida una sfida per me una sfida per il territorio una sfida per tutti i miei colleghi se ci mettiamo insieme se toccherà a me questa sfida mi sento capace di portarla ad un esito positivo e quindi se loro mi danno fiducia danno fiducia al programma che io ho presentato che è quello a quello mi atterrei non ho secondi fini non ho seconde mentalità non devo fare politica non devo candidarmi a nessuna non mi sono mai candidato quindi non ho bisogno di candidarmi o meglio ci provai una volta ma capì che era meglio lasciare perdere e quindi ho dedicato tutta la mia vita alla ricerca e questo è il discorso quindi dal punto di vista elettorale io lascio liberi gli studenti il personale e i colleghi devono essere loro a decidere non influenzo nessuno non cerco di fare violenza su nessuno non c'è nessun atteggiamento di pressione particolare su nessuno quello è il progetto parliamo siamo in conclusione abbiamo toccato tantissimi punti del programma prima di chiudere c'è qualcosa che abbiamo trascurato che vuole puntualizzare di cui non abbiamo magari parlato questa sera ma guardi quello che secondo me si può aggiungere dopo aver detto tutto quello che ci siamo detti in quasi un'ora ritengo che sia una cosa molto semplice nei prossimi anni le università delle dimensioni dell'università di Teramo saranno soggette a una logica di decapitazione di chiusura questo già sta accadendo con alcune sedi che hanno una situazione di dissesto e via dicendo quindi c'è una sfida a crescere e c'è una seconda sfida a incontrare i bisogni della ricerca della ritattica del mercato del lavoro per noi tutto sommato questa seconda sfida è facile perché siamo essendo piccoli abbiamo una maggiore flessibilità allora noi dobbiamo riuscire a sfruttare bene questa flessibilità dell'Ateneo Teramano riuscire a incidere nei punti cardini dove noi possiamo avere un maggiore appeal e riuscire a dimostrare che anche una piccola università in un angolo di Abruzzo abbastanza isolata dal resto del mondo può diventare il punto di riferimento europeo e internazionale per la ricerca e la cultura benissimo noi ringraziamo il professor Stelio Mangiameli che è candidato a diventare rettore dell'Università degli Studi di Teramo auguriamo in bocca al lupo a lui e ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito questa sera abbiamo fatto un panorama completo su quella che è la politica universitaria le strategie i progetti i programmi per chi vive a Teramo l'importante è che l'Università diventi un elemento fondamentale della vita quotidiana di ogni cittadino perché dopo aver perso tutti i servizi l'Università diventa quasi l'ancora di salvezza per una prospettiva di crescita anche socio-economica del territorio una buona serata a tutti ancora grazie al professor Mangiameli e ci sentiamo venerdì prossimo grazie grazie a tutti Grazie a tutti.